Il fineo portato a Roma, con le che sblocche il mezzo, un'azione bellissima! Vecchie fiamme e nuovi amori, passato e presente, obiettivo comune, vincere! Da Luigi Zarcone di Villa Abate, Oratorio San Cire Giorgio, Atletico Corleone, il derby! Allora pallone per Dero Reineri, che prova a convergere verso l'area di rigore, Reineri, Reineri il sinistro! Zabbia! Ci prova il Corleone, la palla per Cane, Cane, la conclusione Cane! Palo clamoroso! E' ovvio che l'oratorio ci deve provare, Massimo Licassi, in area di rigore, ne salta uno, ancora lui protegge palla, steso! Calcio di rigore, nettissimo, calcio di rigore per l'oratorio! Il rischetto va a Reineri con il destro! Non sbaglia, Reineri, uno a zero oratorio! Passaggio in profondità per il fratello steso, attenzione arriva l'arbitro, cartellino rosso, rosso per Pagano, rosso per Pagano, in dieci il Corleone! Ancora giù, calcio di rigore, ancora! Rigore per l'oratorio, il secondo! E cartellino giallo, giallo! Reineri! Sempre lui, ancora lui, spiazzato Zabbia, due a zero per l'oratorio, partita chiusa! E finisce qui! Due a zero per l'oratorio Sanciro e Giorgio, che torna a vincere dopo due gare d'astinenza, sono tre punti fondamentali in chiave playoff per la squadra di Tilotta! Un'azione bellissima! Un'azione bellissima! Un'azione bellissima!